story time evoluzione radio bentornati amici d'amiche di story time qui nel nostro salotto radiofonico in onda su radio italia 5 io sono emanuele landi qui per raccontarvi una nuova storia e presentarvi un nuovo ospite che qui al mio fianco sto parlando di antonio resuttana ciao antonio benvenuto ai nostri microfoni ciao emanuele buongiorno è un piacere essere qui con voi grazie allora antonio raccontaci un po che cosa fai nella vita allora io sono un agente immobiliare ormai faccio questo lavoro da 22 anni però ho una passione la mia passione che mi poi mi porta ad avere quindi un'attività proprio parallela perché alla fine faccio spettacoli faccio il mentalista e infatti mio nome da mentalista da da performer è antonio terranova quindi questo cognome nasce perché terranova è mia mamma ok ok colei che praticamente negli anni 80 perché io ho 46 anni negli anni 47 anzi negli anni 80 e mi comprava una rivista che si chiamava appunto stupire che era di carlo faggi e questa rivista sostanzialmente raccontava e spiegava tutti gli giochi di prestigio che si potevano fare all'epoca quindi avevo la passione del mago dentro come tutti no con sylvan e piuttosto che binarelli cosa succede con questa rivista mi appassiona la magia cresco quindi i giochi magici fatti con le carte le monete le devo un po accantonare e facendo il lavoro di mediatore quindi avendo l'agenzia ho fatto tanti corsi di comunicazione sono un amante tra l'altro della pnl e in questo momento ho deciso non questo momento in quel momento nel 2013 decido di dedicarmi appunto al mentalismo quindi questa arte magica dove è un mix lo dico sempre io perfetto tra comunicazione psicologia e quindi a volte ci può essere anche un pizzico di magia questo mix crea quello che è l'arte del mentalismo dove si fanno anche spettacoli in teatro eventi mi chiamano aziende appunto per intrattenere infatti poi alla fine faremo semmai faremo un esperimento è qualcosa che mi ha sempre affascinato io rimango sempre stupefatto di giochi di prestigio quindi mi piacerebbe davvero provare con te infatti Antonio per i più distratti c'era già scritto Antonio Terranova quindi non avevamo sbagliato allora Antonio prima di essere parte di questo esperimento non ho mai avuto il privilegio di farlo ma sarò questo caso quindi ospite ti chiederei che cosa mi devo aspettare quale sensazione di solito tu crei ok allora domanda intelligentissima non è le grazie allora niente la sensazione è questa andiamo a lavorare andiamo a fare un esperimento un esperimento gioco però un esperimento dove si può capire come la psicologia dell'essere umano può essere condotta può essere diciamo ora uso un termine volontariamente ma non è quello appropriato infatti lo correggo manipolata la manipolazione un termine sono me sbagliato però è efficace infatti quello mi piace usare a me è quello che tutti i giorni noi tutti siamo presi da questo tipo di atteggiamento e di questo tipo di cultura che si chiama una comunicazione efficace ok mi piace è più elegante questo termine dove andiamo a ragionare appunto attraverso il linguaggio del corpo all'inveggio a livello del linguaggio appunto verbale e paraverbale della persona si cerca di condizionare a fare delle scelte faremo un esperimento rapidissimo se me lo consente assolutamente sì ok vedo l'ora i due minuti dove vedrete come questa questo tipo di atteggiamento e questo focus che io farò su di lui è assai possibile vogliamo farlo assolutamente sì antonio ok l'esperimento è molto semplice guarda e consiste in questo io qui in questo blocchettino ora chi ci sente ci ascolta chi ci vede lo vedrà appunto in televisione e ho delle carte sono cinque carte ho un trenino ok ho un bassoio di questo argento argento una bellissima borsa di luisi vittone mi ha fatto pubblicare la vittone un abbonamento alla palestra è un quadro di un artista famoso che in questo momento dipinge in america a miami quindi cosa ti chiedo a te sì ho fatto vedere queste carte bene tra queste carte che ti ho mostrato e c'è una non mi dire quale c'è una carta che in qualche modo che ti può avere un po impressionato te le rifaccio vedere quadro palestra abbonamento bellissima borsa di luisi vittone un vassoio e un trenino c'è qualche carta che ti ha in qualche maniera tra queste colpito senza sapere quale sì o no sì c'è vedi ci ha pensato ha tirato sulla testa è andata a cercare in alta a sinistra ha costruito qualcosa ok immagina che queste carte tra poco ti consegno rappresentano un regalo che tu devi fare a breve a una persona cara quindi potrei io non ti conosco che ti ho conosciuto in questo momento potrebbe essere un bambino quindi regali un trenino la tua fidanzata la tua mamma una bellissima borsa griffata o un abbonamento alla palestra se ti utilizzare in forma oppure dice guarda voglio fare un regalo la vede un po così concettualmente mia nonna è un bel vassoio di argento ok questa è una tua libera scelta va bene cosa faccio ti do questo te sceglierai uno di questi oggetti ok una ora preso l'abbonamento una caso e lo andrai a inserire qui dentro ok quello che ti chiedo di verificare perché se facciamo le buffonate non ci crede nessuno di nessuno che attraverso non si vede assolutamente nulla ok ne selezionerai uno quello che non selezioni se le metti di sotto la sedia è quello che selezionato lo appoggi qui davanti al pubblico e dopo andremo a vedere cosa hai selezionato ok io signori mentre lui manuele fa questa scelta mi sembra essere a fare lo sperimento in teatro e allora vi guardo e vi faccio cerco guardi mettiamo anche la mano così e vi faccio capire vi faccio è interessante provare a notare come lui prima durante la scelta detto hai pensato uno di questi oggetti bene sì lui l'ha pensato ha guardato in alta a sinistra e ha selezionato un oggetto ora io farò un paio di domande a emanuele prima di fare la scelta e vediamo se riesco a indovinare cosa ha selezionato fatto perfetto quindi qui all'interno tu hai l'oggetto ok selezionato ti faccio una domanda emanuele se tu potessi avere dei superpoteri e superpotere per farsi capire sono volare leggeramente o diventa essere invisibile quale potere vorresti avere volare volare quindi volare spirito che sicuramente appunto libero ci hai pensato qualche secondo per dire volare e ci hai pensato subito quando hai fatto questa scelta o è stata una scelta casuale ci ho pensato qualche istante ci hai pensato qualche istante ok allora signori cerchiamo di farla breve io credo che emanuele possa aver scelto come oggetto da regalare un oggetto che ha a che fare con una persona e non giovanissima e io credo che manuele abbia scelto il vassoio è corretto non ci posso credere non ci posso credere il vassoio non ci posso credere e vi confermo che chiaramente non era truccato nulla meraviglioso antonio bene si chiede sempre come hai fatto ma non lo voglio sapere non lo voglio lasciamo un po di suspense esatto esatto questo è il mentalismo che spettacolo antonio terranova qui i nostri microfoni antonio risulta la gente immobiliare ma antonio terranova performer seguite le pagine social anche per i giovani se volete appassionarvi vi facciamo questo invito mentalist performer antonio terranova underscore mentalist antonio terranova punto com il sito riferimento io sono sbalordito antonio c'è qualcuno che vogliamo salutare ringraziare saluto il mio mentore che si chiama matteo borrini è uno studioso criminologo forense che è di lì liverpool e mi sentirà poi sicuramente su questa intervista quindi un saluto a matteo grazie anche se sono rimasto fregato ne farei ancora e ancora e ancora di questi esperimenti di questi giochi antonio grazie alla prossima grazie a voi grazie a voi è stato davvero un piacere e voi amici d'amiche di story time restate ancora in nostra compagnia dopo aver parlato di mentalismo perché un'altra storia vi attende tra poco ciao story time evoluzione radio